Ieri Giovanni Legnini ha incontrato al Cinema Chuck City Police Center di Rocca San Giovanni cittadini, cooperative sociali e il mondo del volontariato per discutere del terzo settore. Il candidato presidente si è soffermato sul suo programma, ribadendo l'importanza di rafforzare questo settore e di come queste organizzazioni rappresentino un modo per tutelare la persona e per appianare le disuguaglianze sociali. Come è possibile valorizzare al meglio il terzo settore in Abruzzo? Il volontariato, il volontariato sociale, la cooperazione sociale, il terzo settore costituiscono uno dei pilastri dei nostri obiettivi programmatici. Vogliamo investire sul terzo settore, vogliamo far sì che sempre più queste organizzazioni sia di volontariato sia di cooperazione possono essere quelle che contribuiscono in modo decisivo al contrasto all'esclusione sociale, delle povertà, per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, per far sì che laddove non arriva il sistema sanitario, laddove non riesca arrivare l'apparato pubblico sia presente chi si prende cura delle persone, chi assiste le persone, chi eroga servizi alle persone. Per noi vi è la centralità del lavoro, la centralità dell'ambiente, la centralità dei diritti fondamentali delle persone a partire dal diritto alla salute.